Io ti chiedi, ma abbandonato la sala, vero? E' stato l'ultimo del banco di riunione di ASU che sono stati arrestati e sequestrati le regioni social. In teoria, per partecipare, quando ero andato, quando ero in un momento, quando ero in un'altra cosa, mi chiedono a chi mi chiedono. In teoria, lamentablemente, quando ero in un'altra gerencia e anche la diretiva di ASU ha permitito al Banco Central sacare un comunicato. Che cosa sta passando internamente da mia cooperativa, da mia credit union? Ha deciso di usare un'informazione di un'altra medalla. che non è un'altra cosa che mi chiedono, ma è un'altra cosa che mi chiedono. ma è un'altra cosa che mi chiedono, ma è un'altra cosa che mi chiedono. ha fatto una scena di un'altra investigazione, ma è un'altra cosa che mi chiedono. Ma è un'altra cosa che mi chiedono, ma è un'altra cosa che mi chiedono, ma è un'altra cosa che mi chiedono. che non portano conseglieri di direttiva. Poi buscano un rischio, un rischio in casa. E ora, mi sono detto, l'antepresidente mi sono andato davanti di un altro socio che era presente, che era il tuo organo di azioni di curatela di Banco Central. Quindi, se stanno qui, non è il mio amore, dove sono i soldati e i soldati di un po' di lavoro qui ritro. E, credo, mi sono partecipata di questo. Come dicevo, un murista, a treco orella di presidente, dice che non è passato, come lo so, in cui non è passato, come la regla di legna di corporal governance. Ora, mi sono detto, mi sono detto, a mia un'interazione che conosce, una donna banca centrale passale for visa qui cosa passano di essere andiamo in chance come socio legittimo passale for conta otto socio non con nobino 70.000 socio si ando banca basso di mas 25.000 socio andiamo con te otto socio non i Pueblo maniera banca centrale si è solamente andiamo in senso non c'è un comunicato buonino non c'è una apertura non c'è un mio credit union per arrivare alla lettera però non c'è lì non c'è un'unica la democrazia participativa del credit union non c'è un pensamento colonial non c'è un pensamento non c'è un pensamento che non c'è un banco non c'è un pensamento non c'è un pensamento che è un pensamento ando bagunque senzardino kitamang che da leo